Ciao a tutti, sono ancora Zane e oggi sono qua in un server Hunger Games Questa è la prima volta che gioco negli Hunger Games Però so che devo prendere un kit e scelgo Barbaro Che mi consente di avere una spada orca, l'ho scelto proprio in tempo Ora le cose principali sono trovare del cibo e prendere un po' di legna Questo pure è la canna da pesca No La zungla Speriamo che questo mio primo video negli Hunger Games duri molto Che non muoio subito Ora prendevo un po' di legna Almeno 5 pezzi Ecco, sono già incontrati gli altri due Guardate Impossibile Me ne vado Anzi no, aspetto che finisca il tempo No, sono troppi Per non già capito questo mio primo video sarà un fail Visto che non ho ancora trovato zibo Non ho ancora raccolto legna E C'è un gruppetto di 3 persone Di vicino Aiuto un creeper o uno scheletro? No, no, no Scappiamo 10 secondi Ora sono zombie Ecco è partito Stanno già Sono già i primi morti Ah, comunque non l'ho detto però Per questi server basta Registrarsi in uno E sei automaticamente registrato in tutti i server Hunger Games In link metterò In descrizione metterò il link di Del sito dove Potete vedere tutti Tutti i server Hunger Games E i vari kit Ora cerchiamo un posto dove fare Dove trovare cibo Perché sto morendo di fame Ecco Faccio pure del danno Deserto Non buono Vabbè nemmo diritto per di qua Qualcosa troveremo Sì, dei Dei cosi secchi e basta E cactus Non me ne faccio niente Mi sa che dovrei andare a cercare qualcuno da uccidere Sì, mi sa proprio di sì Allora vediamo La bussola basta colpire un blocco E ti segnerà il giocatore più vicino Ti dice pure chi è il giocatore più vicino Ora la seguiamo Dico ancora in quella direzione Speriamo Non sia in caverna Ecco E' là sotto Bene Bene, è stato facile Mmm, però qua c'è del ferro E un po' di roba Mmm, non aveva cibo Ah, probabilmente aveva scelto il kit Joker Però è una canna da pesca Picconi? No Di legna? Un po' Quello di vestrallo mi spaventa Allora Insomma c'è un piccone Così alla svelta Prendiamo un po' di pietra Allora Prendiamo un giusto Un po' di pietra Per farci Una fornace E E un piccone di pietra Da prendere il ferro Che mi farò Boh, vediamo quanto ferro c'è Sembrazzo di vedere Ne ho visto solo due Mi farò una spada Oh, ho pure quattro pistoni Ah Vabbè, facciamoci il piccone Ecco E prendiamo un po' di carbone Lo prendiamo molto Ecco Basta Prendiamo quel ferro che ho visto E il tuo l'ho perso Ah, eccolo Sì, saranno solo due O non c'è l'altro dietro Bene Solo che Preferirei farmi La spada Piuttosto che i gambali O robe del genere Sì, dai Mi faccio solo spada E il resto Me lo tengo da conto Allora Un po' di torce Non fanno mai male Bene Mi serve cibo Vabbè, mangeremo Questa carne marza Per ora Bene Ora una spada Ci dobbiamo fare Un lupo Mi sono spaventato Bene Ora gli altri dovranno stare attenti Ho ancora fame Prendiamo questo Questo E' una crafting table Allora Prendiamo di non la bussua E vediamo Iaco 2000 Cerchiamo Di qua Ah, un altro Mi sa che sono in gruppo Ahia Là c'è pure un gruppo Che vuoi cercare di prendere La peccora sull'albero Ah, aiuto Ferro Direi di andarlo a prendere Mi faccio un buco sotto Giusto per ripararmi Che non arriva qualcuno Mettiamo Mettiamo Sabbia Anche se Non è proprio il massimo Vabbè Mettiamo le fornazze Qua siamo Uh, quanto ferro che ho 7 2 9 9 9 9 Faccio l'elmo agli stivali Il copolo della TNT Me la metto a portata di mano Vabbè Vabbè Di là comunque Non ho ancora cibo Devo trovare del cibo Oh, un fungo Dai, dai, dai Ah, è vero La canna da pesca Dovrei trovarmi nel laghetto e pescare un po' Siamo rimasti sull'in 40 Mica male Crafting table Oh, un fungo Oh, un fungo Oh, un fungo Ecco 49 Adesso un indeciso Se andare a pescare O a uccidere il primo che trovo Mi sa che andrò a uccidere il primo che trovo Sennò diventa troppo noioso Scatefan Che brutto Ma che nomi hanno Questi qua Un altro lupo Una crafting table Mi sa che sono lì In giro Uvo, zero cobblestone Sono là di sotto Uno scheletro Ossidiana Lava e acqua Andiamo di qua No Che culo Di merda Solo che adesso faccio un po' fatica a salire su Vabbè Già lo faremo prima o poi Mettere cos'era la legna No dai, uso il petrisco Vediamo Mi indica di là la bus Uh, vedo i nomi Tutti e due Due ne vedo Cioè adesso ne vedo su uno Uiti Nooo, era lì Beh, non durato più del previsto Però Per oggi è tutto E mettete dei mi piace Se volete che faccia Che faccia altri video Sugli Angry Games Grazie a tutti Grazie a tutti